Continua la nostra campagna promossa da Marco Camisani Calzolari sulle truffe più diffuse in questo momento. Vai Marco che noi prendiamo a punto. Vediamo i tentativi di phishing più diffusi in questo periodo e se premiamo sul bottone arancione con scritto riscatta il codice ora ci faranno credere che abbiamo vinto uno smartphone di ultima generazione. I truffatori tramite questa tipologia di sms vogliono spingerci a inserire i dati della nostra carta sui siti web trappola per poi rubarceli. Come sempre in questi casi ci sono errori grammaticali, vedete? Utilissimo, utilissimo!